Bentornati al TG7, uno stop all'arrivo di altri immigrati nelle strutture di accoglienza. È questo l'esito della Commissione Consiliare Servizi Sociali tenutasi ieri mattina. All'incontro sono state invitate le associazioni cooperative private che sul territorio comunale svolgono attività di accoglienza dei richiedenti asilo in accordo con la Prefettura di Latina. Considerata la consistente presenza di stranieri nel Comune di Fondi che rappresentano circa il 10% del totale della popolazione nell'ottica di migliorare le attività connesse all'accoglienza temporanea e integrazione dei richiedenti asilo, la Commissione Consiliare ha espresso all'unanimità l'auspicio che il numero degli ospiti attualmente presenti nelle strutture private non aumenti ulteriormente, soprattutto per fare in modo che la comunità locale possa avere il giusto tempo per comprendere e condividere termini e modalità di gestione dell'accoglienza temporanea. Infatti, l'obiettivo da raggiungere è quello di dedicare più attenzione alle attività di gestione e ad eventuali percorsi di integrazione nel tessuto sociale della comunità locale. A tal fine, la Commissione ha preso atto altresì della predisposizione da parte della Prefettura di un protocollo d'intesa con i comuni della provincia di Latina per individuare specifici percorsi di integrazione consistenti in attività e servizi resi dai migranti in qualità di volontari nei comuni di accoglienza temporanea a favore della comunità locale. Anche il nucleo locale di Forza Nuova ha presenziato all'incontro pubblico, voluto dall'amministrazione comunale con le cooperative che accolgono i migranti e, a detta dei forzisti, il risultato è stato a dir poco esplosivo, rivelando la vera e unica faccia dei benefattori in questione, quella dei lucratori che si stanno arricchendo con i clandestini. Forza Nuova continuano, non può far altro che applaudire ed apprezzare la decisa posizione del sindaco Salvatore De Meo, che ha letteralmente preso di petto il responsabile della cooperativa Ginestra. Forza Nuova, concludono, esorta il sindaco Salvatore De Meo a far eseguire le dovute azioni alle sue parole. Disagio sociale a Porta Roma. I cittadini e i commercianti del posto hanno deciso di riunirsi mercoledì 28 per affrontare insieme quello che è il tema scottante di questi giorni a fondi, e cioè per l'appunto il tema dell'immigrazione. Porta Roma, fulcro di culture diverse, necessita, a detta dei residenti, di maggiori controlli finalizzati ad una convivenza civile tra stranieri e fondani. L'appuntamento è per mercoledì alle ore 20.15 al Bar Conte. Parliamo ora dell'omicidio Cerro. Si terrà il 13 ottobre l'udienza davanti la Corte d'Assise d'Appello di Roma. Silvana Cerro, 56enne, originaria di Ponte Corvo, è morta il 20 novembre 2013, in seguito ad una rapina nella sua abitazione a fondi. La donna, legata e imbavagliata, venne rinvenuta riversa con una federa sul viso, tenuta da del nastro adesivo da elettricista, dalla figlia minorenne. Asfissia, dovuta ad insufficienza respiratoria, acuta, è il risultato dell'autopsia. A presentare il ricorso sono stati gli imputati a Kurtaleb e Salvatore Guglietta, condannati rispettivamente in primo grado a 14 e 7 anni. Il secondo è stato accusato solo di rapina aggravata. Si svolgerà giovedì 29 settembre alle ore 18 e 30 un incontro con i ragazzi nati nel 1998 e residenti nel comune di Lenola per illustrare il bonus di 500 euro messo a disposizione dal governo e le istruzioni per riceverlo. Il bonus fornito dal governo potrà essere utilizzato per biglietti del cinema, concerti, libri, musei, teatri, monumenti, mostre ed altri eventi culturali. Dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2017. L'iniziativa è volta ad aiutare i nuclei familiari meno abbienti, che hanno difficoltà a sostenere le spese economiche destinate alle iniziative culturali dei propri figli. I nati nel 1998 saranno i primi a beneficiare del bonus, ma secondo le intenzioni rese note dal governo, l'incentivo sarà concesso anche nei prossimi anni. Torniamo a parlare del Fondi Film Festival. La quindicesima edizione si è conclusa domenica. Noi c'eravamo e la nostra Ilaria Monacelli ha intervistato Stefano Ambrogi, l'attore che ha ritirato il dolly d'oro per il film, lo chiamavano Gig Robo, e Virginio Palazzo, consigliere delegato dell'Associazione Giuseppe De Santis. Ascoltiamo. Grazie. 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 Unicusano Fondi guidata da mister Parisella che all'esordio in campionato nel Girone D porta a casa una vittoria importante espugnando il campo del Lecce San Pancrazio Salentino grazie alla rete siglata da Simone Di Giacomo nel primo tempo. Nella ripresa espulsione di Tibaldo per un fallo su un avversario lanciato a rete. Rigore per il Lecce sul dischetto Maiolo ma a salvare l'unicusano Fondi ci pensa l'estremo difensore Mirko De Bonis che para e mantiene invariato il risultato. Lecce-unicusano Fondi calcio finisce 0-1. Il nostro TG termina qui. Vi ricordo che per suggerimenti e segnalazioni potete mandare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcanalesette.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sulla nostra rete.